Buon pomeriggio, siamo qui per portarvi un regalo di Natale, un regalo fatto di musica e di poesia. È un viaggio che vedrà in un certo senso il coro Cross Corona camminare verso Betlemme assieme ad altri musicisti amici. Laura Catrani, Giuseppe Solera, Lorena Coser arricchiranno le esecuzioni. A voi l'augurio di un buon ascolto, signori, il coro Cross Corona. Grazie! Porta Luca la zampogna, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna. Viene Alessio con il flauto, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna. Porta Pietro il tambonello, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna, suoneremo per Gesù una dolce dinna nanna. Aplausos 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 Aplausos